Enzo Ferrandino, tra un anno si vota a Dischia, c'è la corsa anche al sindacato, probabilmente tu pure farai parte tra quelli che ambiscono a questo importante ruolo, però c'è da dire che c'è un partito, il PD, che potrebbe presentarsi frantumato. Attualmente nello scenario politico vi è una maggioranza amministrativa al comune di Dischia sorretta da un numero cospivo di consiglieri che aderiscono tutti quanti al PD, quindi la rappresentanza consigliare rappresenta l'ossatura portante di questa amministrazione. E' chiaro che da adesso a un anno vedremo degli scenari che tenderanno a modificarsi, perché la politica ci ha abituato a questi meccanismi, vedremo come eventualmente evolverà tutta la vicenda. Sembra che Pericelli voglia dichiararsi indipendente. Questo non è una contezza diretta di questa cosa, se Antonio deciderà o ha deciso di muovere questo passo avrà sicuramente le sue motivazioni a sostenere l'iniziativa. C'è Luca Trani e dall'altra parte nonostante fosse PD e poi c'è Telese che in effetti è stato tra i primi ad essere iscritto al partito che resta fuori. Qual è la posizione di queste persone anche verso le prossime elezioni secondo te? Dovresti eventualmente chiederlo a loro, a queste persone che tu adesso hai menzionato. Per adesso abbiamo uno dei due, il Presidente del Consiglio, che riveste il ruolo istituzionale del Presidente del Consiglio, perché a maggioranza l'attuale Partito Democratico lo sostiene all'interno del Consiglio Comunale. È chiaro che è anomalo il suo atteggiamento che continua a conservare un ruolo istituzionale da un lato e dall'altro vorrebbe contestare quella che è l'azione amministrativa. A mio avviso ben farebbe a fare chiarezza e a dirci chiaramente se eventualmente risulta ancora essere del PD da un lato con la Maglia di Presidente del Consiglio o se eventualmente ha deciso di intraprendere definitivamente quella che è un'azione di opposizione legittima ma che per una questione di coerenza dovrebbe essere accompagnato da una serie di iniziative che altrimenti in qualche maniera bollano per mero opportunismo politico la sua azione. Voglio lanciare un messaggio al tuo ex sindaco telese. Oggi non è parte attiva all'interno del Consiglio Comunale, di preciso non lo seguo, quindi non conosco quali sono le sue idee e il suo orientamento. Vedremo nei prossimi tempi quale sarà il suo modo di comportarsi, i suoi atteggiamenti.